John Borgo ragazzi pochi cazzi e benvenuti al Girono d'Andate in un minuto l'avete voluto l'avete cercato e ora l'avete ottenuto mortacci vostri prego Agosto Salutate la capolista Settembre Salutate la capolista Ottobre Salutate la capolista Novembre Salutate la capolista Dicembre Salutate la capolista Gennaio Salutate la capolista Quel momento in cui dici che il Carpi non deve venire in A E di fatti perde con tutti Ma con la tua squadra no Ah ma quindi se non vieni come sono erano? Per un buon motivo per far entrare di Livio Ma qualcuno mi spiega perché con l'Antuono invece di mettere Duvan Zapata Che l'anno scorso c'era la media gol più alta del campionato Continua a schierare Perica che chiede le lemosine al semaforo di fronte a casa mia Mi consenta ma quindi c'è la salta a parametro a zero? Prendiamola prendiamola Comprimente ad un allenatore campagnolo Che con costanza, tattica ed equilibrio arriva primo al Gerone d'Andà A Marranieri con le ceste e non allena in Serie A Ah no scusate ragazzi questa va tagliata Signori è stato un piacere suonare per voi Grazie a tutti Grazie a tutti